secondo turno kataoka contro flo che fare? oggi flo non si vuole scusare che fare? toglietemi da questo tavolo vi prego non sei contento il tavolo non posso più farlo non posso più farlo non posso più farlo non è tutto camion non posso più farlo non posso più farlo non posso più farlo devi iniziare ho fatto 16 10 ok esatto andiamo controlla vediamo la moviola in campo il gioco Choromatsu immagino 3 cerca il voice actor Diego guarda che palle guarda ti sei vaccinato quello da salvaggiare si esatto si è rotto si è rotto si è rotto salve di azzerino non abbiamo come questa battaglia l'olta 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 quando fino alle prime tre carte le posso prenderle in mano e scartare cioè il personaggio bisogna mettere insieme quel video e quello di cosa si torna 130 con Marmino Gallo ah non c'è 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 si non c'è non c'è non c'è cosa fa quella dietro passavi 500 all'inizio della tua combat a un mio pezzo e i brainstorm tappando lei tuttora va bene quindi quant'è? dai vai 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 paghi il quattro scatto due scatto è davvero una foto questo è morto è morto è morto è morto è morto forte questa batte è bella perchè? macinato cli macinato cli adesso tipo li ha trigger tutti in attacco tutti quanti tutti cosa fanno queste carte qua questa cosa cioè questa quando hai entrato va bene non run non fa niente ti fa andare solo in galera si eh va bene eh attacco ok 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 attacco mamma mia che brucia è l'unica è l'unica è l'unica overage forse è legale non c'è il padre di di cinema ho visto una puntata mi sono pentito la prescina è l'unica senza clima c'è il secondo la scena del primo due se ci cresci più 3000 wow è l'unica perché canta? lei non è un è la foil non è un set di idol perché canta? tutto in giappone canta cosa stai facendo? tutto ho preso lei tutto in giappone dimmelo cosa fanno era uguale? no e lui come cazzo fa? gliel'ho dato saperlo hai detto è foil va bene vedo che è foil eh o per lei vabbè ho detto è la stessa però vabbè è foil bravo perché c'è una vestita da cavanere prussiano mamma mia perché c'è in mano la scuola non devo farmi domande devi far domande non faccio domande non faccio domande non faccio domande adesso c'è un romanzo d'uore uno due siamo pari eh va bene due prendi tutti perché oggi non non c'è reverse uno si ma che non è due si paranti mi raccomando dai che mi allontano fa buono fai a cagare favo uno brainstorm ok ah ok scusa se non ho drini in mano avrò altro un pezzo sempre la clock eh minchia eh eh fai un po ma si ma si no eh la sono giocare a livello 3 eh no ok prendo lei immagino già la gente che urla perchè l'hai presa perchè gioco io perchè sono ignorante perchè sei allo zero perchè sei allo zero mi sei una buona mossa si adesso pesco il scarto climax esatto sicuro io lo faccio eh no non lo occhi no perchè posso passare quale mi piace si vuole essere voluto 7 gioco scarto climax quale le tance tantissimi di quelli di quelli esatto ti sei chiesto perchè non mace nei climax potrei giocare o c'ho ramazzo di nuovo non fa più ridere lo smetterla ehm oppure settarsi per lui oppure mettere un mossa di difesa ehm no aspetta ehm mi sento per lui oppure gioco ma si fai triple zero ma si quindi tu hai guardato su mazzi certo è bellissimo quella storia è bellissimo non è bravo che giovane rito tu non ci mancherebbe altro guarda chi ti fa ci sono dei maschi ehm rivelo la prima il nastiere da prigioni con dentro dei maschi beh in natura va a cagare che maschi sono rito 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 è sempre nudo passo 1500 va bene e poi lui è nudo solo quando è una donna giochiamo lei vediamo se siamo abbastanza forti no non siamo forti non lo siamo e non lo saremo mai e non lo saremo mai però lei è grossa quindi mi piace sta cosa oh no mi reverso wow 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 quindi attacco qua attacco in base 2 3 ok 1 si però bravo ok 2 2 cosa hai citato ne ero 4 si 1 basta tu i gare perchè vado è bello è bello soprattutto se tipo i primi livelli te li fai tipo con l'ignoranza di un porta non è non 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 beh ok ok non non ok ok è anche ti è è Se vuoi prenderti un secondo in più per mischiare e per fare le mosse non c'è bisogno di ansimare ogni volta che fai una mosse Che cazzo è sta perda Ho già avanti Cosa fa questo ingresso gratis in prigione? Che culo Cosa fa perché fai le cose non me lo dici Maschino due se c'è prima si prende più 3000 E' uguale a quella di prima però è diversa No è uguale Va bene è uguale Queste fanno scimacazza E' uguale ma è diversa Va bene fanno scimacazza Se reversano tutt'ora Grazie Stupido idiot Quella dorme e quindi farà qualcosa Quella non la prima Ah pari pure Si e con la sign Perché bling bling do la bling Due Sto morendo Pian piano Penso Tutto over rise Sì Tu fai cose mentre io faccio altre robe però mi son perso metà delle robe Due Gate Riprendo Ok Tutto over Tutto over level assist C'è un'altra Dritto 2004 2004 2005 Vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Può diventare 6.000. Va bene, può diventare 6.000. Quella prende più 3.000 se ho 5 o più in stock. Io non ce l'ha. Tra un po' ce l'hanno in 5.000. Io mi dimentico le mosse, mi dimentico le mosse, ragazzi, sono stanco, ho finito adesso la stessa giornata. Di domenica. Tu non hai idea cosa vuol dire voler dire voglio dormire e mi sveglio comunque alla solita ora. Quanto sei? Ci stai schiantando? Perché quella è? 6. Ok. Ah, gliel'hai passato alla fine. 5.5. Va bene, non glielo ho passato. 5.5. Eh, non ho capito. Sì, è che glielo passo, non glielo passo e 5 è più grossa. Sì, va bene. Allora, non ti tutto, basta. Esatto. Secondo, di le cose come stanno. Dove? Ora. Sli vedi. Mamma mia. Basta, ridate questa partita. Ghe va for più. C'ho fame, c'ho la diffamazione. Mamma mia. Più uno. Che forza. Mi setto già per il 2, guarda, visto che sto giocando i modi. Sì. Ora la sto giocando. Mi vedo già tipo un gioco di 2 e mi chiede, che cazzo hai giocato? Come si fa a giocare così male? Vale, voglio tornare a spingare. Passo più mille. Giunta prima, sono loro due, in mezzo. 3, ora. Se tu fai tutto in missile va bene. Buon programma adesso. Adesso le tengo tutte, lo so già. Quanto? Edouard Gate. Uno, grazie. Pago tre. Va bene. E due, tre. Mamma mia! Nice! E adesso arrivi! Mamma mia! Questa partita è al massimo delle tue capacità. Non lo so. Non c'è più religione, non lo so io. Guardo la prima. Sera lì. Si lo fai. Tu nomi. Facciamo stock? Basta. Due stock. Si lo so. Ho detto facciamo stock. Ecco, ok. Cosa metto? Leo Monogatari. Livello 2 Monogatari. Livello 2 Monogatari. Sì. Esatto. Fai tre stock con un attacco fuori. Tre. Va bene, cioè. Vado. Si. Limax. Ehi. Fino al merco. Fino al merco. Fino al merco. Fino al merco. No, no, no. Alza. No, no, no. Alza. Non mi viene quello che devo fare. Si. Ti curi di uno perché tanto quella entra tipo sempre quando hai... Fino al merco. Tanto non mi spieghi le cose. Non prendo niente. Non prendo niente. Non prendo niente, ma la c'è. Ok. Ti lascio ne calma. Grazie. No, magari paghi tre di stock. Mi sa che sei... No, sono tre di ceci. Ah, ok. Va bene. Ah, in più ed è anche fortissima tipo. Va bene, va bene. Uno. Sono in asta. È fuori. Scusa. Ho parato fino adesso. È infatti detto che è fuori. Questo lo prendiamo? Stanno. No. Fascio set. Scara vuoi? Non c'è a prima, eh. Poi sono vissuta. Non mi arrivo a vedere. Guarda. Una bozza. C'è. Sì. Due. Due. Eh, dai! Viva! Dio! Boh! Il mio avversario aveva tirato d'aria con 5 card in mano. Vabbè. Due a mezza. Allora. Fin livello perché ci porta fortuna. Due. Adesso prendendo 6 card. Devo andare pure in disca. Sì. Wow. Hai provato due attacchi su tre che fuori. Sì, vai. Ciao. What's to do? Cos'è? Quanto sono? Ma mi ho vinto una bustina. È illegale. Come le vedi, 11 e mezzo e posso passare al 500 come sempre. Tu sei giocato a sto gioco? No. Molto bene. Allora devi sbustare. Eh, guarda la prima. Lascio sopra, pesco due. Facciamo pubblicità occulta. Scartone. Dai, dai! Anni! Tum, tum! Ok, fai. Guarda. Devi fare questo. Sì, sono sulla fila di carri. Si fa che sono la 2. Fa cagare. Come portaviglia. Devo stare le mitiche leggendari. Come cazzo si chiama in sto gioco? No. Non mi aspettavo bene. No. Allora, devo scartare ancora un minuto. Dai! Ricordo, ricordo. Ricordo di te. Visto che non c'è più ragione. Mai. Io mi sono demoralizzato. Lui non può sapere. Perché questo è sconto. Sanna ti sembra che è detto che questa è grossa e lui gioca a Kambaru. Che cazzo vuoi? 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 Cazzo vuoi? Eee. Eee. Che presto vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi fare gli stupidi. E siamo stupidi. Dai ma per prendere le... Siamo fulgiti. E' subito. Quindi... Eee. Hai detto che tipo è grosso questo? Vabbè tanto. Qua sono le reverse cambia per favore. Ma è le reverse anche lei. Eh ma così qua non muore la tua. Wow. Eh cosa vuol dire? Se voglio farle muore tutte... Per esempio. Vabbè. Mi schiavano. Vieni da la foto! Vieni da la foto! Vieni da la foto! Vieni rotto! Jesus! Take the wheel! Eee. Qua sei sopra. Sono 11 e mezzo. Va bene. Io sono... A mezzo... 11... 11... 12 e 1. Ma è schifo! Sono 12, sono 13. Va bene. Va bene. Sculone di merda. E' stato una buona scena. Eee. 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 Lo so. Eee. 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 Basta parare tutto bene, basta parare tutto, non va tutto bene A questo punto stiamo solo facendo un cavanetto, quanto ha grossa la testa Anche il collo figlio C'è è una giraffa È una giraffa con la testa gigante Sard ha fatto la giocata del secolo sul tiro Ha concesso Io sì Ha fatto ultrification Prego, io non ho carta in mano, faccio ultrification, faccio uguale 2-2 su di te Che è un 5-5 Calido scopo quello che ti lo rimbalzo, ma hai nuove carte in mano e quindi va fuori Mamma mia è troppo forte Adesso muovo Come me È stato il mio stesso ragionamento Comunque Shadowcraft è divertentissimo Tanto fino a salvaggia C'è altro che lo devo rileverlo Sì che interrà prima ancora perché non fa qualcosa Ma c'è intera prima Sono loro due back Va bene, ok, interessante Una E vabbè dai Sì Quanto sei? Quanto sei? Quanto? Due Intanto li prendiamo Due? Si Strano che non parlo Due? Mamma mia Stai viva Stai viva 200 Ehm Ehm Esatto Ti fai un danno? No Non mi faccio un danno Ma guardo la prima Non lo faccio Ha scoperto il tuo piano Ha scoperto il mio piano malvagio E' fortissimo Ehm Quella tipo è grossa 11,5 12,13 Chi più ne ha più ne metta Ehm Trego più due soldi ogni attacco e vinci Eh potrei No non hai più due soldi ogni attacco Potrei Sì Ok ci arriva bene schiantiamo Uno Bello Due Cazzo forse salgo il po' Wow No Che stia Si fa il figo tra l'altro Si fa il figo tra l'altro Spara tutto Si non ti dice cosa fa tipo Mi schiaggio caso Adesso vinco senza attaccare Bello va bene vinci senza attaccare Che peccato Che peccato Ma che paghi su uno? Ho pagato due Un fiume Precato Un fiume Uno Si Non uscione Un fiume Non uscione Niente Sì Due Due Un fiume Un fiume Uhhhh Ehi, ehi, guarda che vogliamo brin stoccato!